eccoci qua come promesso oggi parliamo di piano velico prima di entrare nel dettaglio vi ricordo ancora di iscrivervi al canale e di mettere un mi piace per supportare questo canale parlando di piano velico come voi tutti sapete il piano velico è costituito da un albero un boma un sartiame che serve a reggere l'albero strutturalmente e delle vele che in questo caso sono soltanto la randa e il fiocco allora vediamolo con una vista laterale allora questa chiaramente il fiocco che è la vela di prua e questa è lavanda questo è l'albero e questo è il boma questo qua si chiama strallo di prua le sartie sono di due tipi queste qua si chiamano diagonali e queste qua si chiamano verticali noi in questo caso abbiamo un albero a due crocette questa crocetta e questa crocetta quindi questa qui si chiamerà D1 diagonale 1 questa si chiamerà fino a qui diagonale 2 e scusate verticale 1 questa è la diagonale 2 e questa qui tra qui e qui è la verticale 2 v2 così si si nominano le sartiame quindi fra diagonali e verticali le crocette come avete visto se le guardiamo in pianta sono come si suol dire a quartierate cioè hanno un angolo rispetto al baglio della barca che in questo caso è intorno ai 15 gradi questo angolo serve a reggere strutturalmente l'albero non solo in senso trasversale ma anche in senso longitudinale altrimenti se le crocette fossero perfettamente perpendicolari al centro barca l'albero avrebbe bisogno anche di delle sarte un altro strallo qui e un altro strallo a poppa come si faceva una volta per barche diciamo molto molto piccole per esempio le derive non c'è neanche più bisogno di dello stato del del back stay perché del degli stradi di poppa perché già l'angolo di acquartieramento basta a reggere le spinte che vengono da poppa per quelle che vengono da prua invece ovviamente c'è il lo strallo di prua in questo caso invece abbiamo messo il back stay che è diviso in due perché è una barca già di una certa dimensione e non basta l'acquartieramento per evitare che l'albero si pieghi in avanti la d1 e la v1 finiscono qua e quindi qui ci sarà una landa che ormai si fa quasi sempre in composito e quindi avrà una forma la landa in composito avrà una forma triangolare sarà costituita da fibre unidirezionali che davano da una dalla lato esterno della dello scafo al lato interno girano così e quindi coinvolgono le boccole che servono a reggere la d1 e la v1 in quindi in questo caso i vetri diciamo sono abbastanza lontani da questa zona particolarmente sollecitata se è necessario si può fare una struttura aggiuntiva dei 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 bagli aggiuntivi per evitare che questa zona sia troppo sollecitata ci siano delle deformazioni di solito le deformazioni sono anche a schiacciamento perché quando l'albero va in compressione ovviamente la barca si schiaccia quindi è bene che sia strutturata sia in senso trasversale sia localmente dove ci sono le sarti è pieno il mondo di barche che cominciano ad avere infiltrazioni d'acqua nei vetri o nell'albero negli esteriggi ma non perché non sono stati siliconati bene ma perché la barca si è deformata perché non strutturata abbastanza e quindi dopo anni il composito ha ceduto si è deformato e quindi comincia a passare l'acqua in diversi punti come si come si misura un piano velico allora io ci ho messo qui un po di misure sostanzialmente questa misura qui si chiama e la misura del boma che 4440 non è esattamente tutta lunghezza del boma e fino al segno di stazza e fino a dove la vela può arrivare diciamo poi questa misura qui è p 12 metri e mezzo che va anche da qui dal segno di stazza fino al boma e quindi questo definisce sostanzialmente l'area della rand a prua abbiamo j che questa qui 3 metri 60 e poi abbiamo i che questo questa misura qui che in questo caso è 11 metri e mezzo vedete come lo strallo di prua non arriva in testa d'albero potevo farlo anche arrivare in testa d'albero ma adesso diciamo solitamente si arriva a 7 ottavi insomma dell'altezza albero facilitando un pochettino le manovre della del fiocco e dando più importanza alla randa lo strallo di poppa o paterazzo e vedete che è parte dallo specchio di poppa e arriva fino a questa struttura che serve ad allontanare lo alla testa dell'albero che serve allontanare il padarazzo dalla vela perché la vela la randa ha un leggero ha una leggera curvatura e quindi non è un triangolo diciamo una curvatura che aiuta dal punto di vista aerodinamico e che e qui e quindi bisogna fare questa specie di testa d'albero altrimenti la vela non passerebbe da una parte all'altra del del paterazzo dello strallo di poppa se questo fosse qua la vela non passerebbe lo possiamo vedere anche in 3d vedete il timoniere sta abbastanza comodo e sta lontano dal dei due paterazzi e la vela deve poter passare da una parte all'altra perché di volina ok ma quando si apre e va di poppa ovviamente deve poter venire qua non ho fatto delle volanti le volanti sono delle strutture dei del temporanee che si che sono di solito partono da qui e vanno all'albero e che vengono mollate o tesate a seconda di del bordo che si prende e aiutano a sorreggere l'albero in questo caso non ce n'è bisogno perché è una barca abbastanza piccola ed è molto facile fare un albero che non ha bisogno di volanti le volanti servono anche in inglese si chiamano running stay servono anche nelle barche da regata a modificare la conformazione dell'albero la curva dell'albero per cui nelle barche da regata o comunque barche veloci ci sono delle crocette in linea quindi senza angolo perfettamente perpendicolari al centro barca e poi ci sono delle volanti cioè il patarazzo di poppa ma anche delle volanti che servono appunto a a sorreggere l'albero principalmente ma anche a dargli una forma a regolare la forma dell'albero o come avete visto messo anche due winch qui sulla tuga e un paranco per la regolazione della della del bomba ovviamente la scotta aranda in questo caso una barca piccola basta un paranco normalissimo diciamo questi due winch chiaramente sono multifunzione nel senso che servono a azionare le drizze della randa e del fiocco e poi anche a regolare diciamo per uso scotta fiocco qui ovviamente ci servono delle rotaie e questo qui è un po la conformazione qui ci si potrebbe mettere un rullafiocco in questo caso manuale perché è una barca relativamente piccola volendo si potrebbe mettere anche un ball sprit un un tangone un buon presso scusate retrattile per usare il gennacchere in questo caso bisogna mettere un altro winch perché chiaramente questo qui non basta e questi due non bastano per manovrare anche il gennacchere allora come potete vedere se andiamo in vista laterale non è molto visibile ma l'albero a un reic cioè un angolo di inclinazione non è verticale è inclinato un grado verso pop tutte le barche hanno un piccolo rei che non sono mai verticali anche perché poi dopo quando l'albero si deforma sotto azione delle varie forze corriamo il rischio di avere un abbananaggio verso brua che è devastante invece gli alberi sono tutti hanno un reic tutti verso verso poppa diciamo e poi la cosa più importante ovviamente c'è un rapporto fra il piano velico e la deriva allora questo rapporto diciamo così per darvi un metodo molto semplice possiamo dire che il centro velico che è la somma del centro di questa area all'area della randa più il centro di quest'area anzi per essere precisi soltanto del triangolo avanti c'è un po di sovrapposizione vedete questa qui non si considera il centro velico che è qua io l'ho fatto prima e dove c'è questo puntino qua da questo centro velico ho tirato giù una verticale e diciamo così bisogna vedere qual è il rapporto fra il centro di deriva e il centro velico così calcolato in generale il punto dove agisce la forza laterale e dipende dai profili in acca che usiamo però è circa al 25 per cento di questa corda questo punto qui rispetto alla verticale del piano velico si chiama piede perché la barca sia bilanciata deve avere un piede cioè appunto una distanza fra il centro velico e il centro di spinta laterale che va per questo tipo di armamento che si chiama sloop va dal 3 al 5 per cento della lunghezza al galleggiamento quindi prendiamo la lunghezza galleggiamento dal 3 al 5 per cento è una distanza che si chiama piede ed è la distanza fra il centro velico la verticale dove sta il centro velico e il centro di spinta laterale allora in questo caso è abbastanza semplice trovare il centro di spinta laterale perché la deriva è dritta quando la deriva è triangolare bisogna non considerare il timone non considerare la parte di scafo immersa prolungare questo triangolo fino alla linea di galleggiamento e considerare quella come deriva come aria laterale perché non si considera il timone perché il timone non fa deriva nel senso che il timone si muove e quindi non è che si oppone in maniera significativa allo scarroccio della barca e la parte immersa dello scafo ugualmente non ha questa funzione non ha un profilo NACA per cui può opporsi allo scarroccio infatti senza deriva le barche scarroccio in una maniera scandalosa e quindi è soltanto la deriva che è deputata appunto a non far scarrocciare la barca non farla andare alla deriva e quindi noi dobbiamo indagare quando vogliamo bilanciare una barca il rapporto fra deriva e piano velico quindi io potrei, l'ho dovuto spostare infatti la deriva rispetto al file precedente perché chiaramente non tornava, ho impazzato la deriva senza aver fatto il piano velico e quindi il rapporto non tornava quindi io potrei teoricamente spostare deriva e albero a prua, a prua scusate, o a poppa però tutto insieme ci sono delle barche che hanno per esempio un fiocco piccolissimo alcune barche non ce l'hanno il fiocco hanno l'albero qua e hanno soltanto un randone enorme chiaramente la deriva deve essere spostata a prua sono barche piccole senza bulbo ma chiaramente bisogna spostare anche la deriva a prua perché altrimenti il rapporto va a farsi friggere e la barca non è più bilanciata barca bilanciata significa che quando si timona non bisogna fare uno sforzo per tenerla barca su quell'angolo rispetto al vento ma la barca una volta preso un angolo rispetto al vento rimane su quell'angolo altrimenti si perde un sacco di energia agendo sul timone che deve continuamente correggere l'angolo al vento e chiaramente la barca va più piano e poi non è confortevole viaggiare in questa situazione allora, allora, allora in questo caso abbiamo circa 60 metri quadri di vela fra randa e fiocco e sono molti, sono pochi qui sono andato a esperienza perché per fare le cose veramente fatte bene bisogna creare il momento raddrizzante la curva dei momenti raddrizzanti della barca e confrontarla con la curva dei momenti sbandanti generata dal vento che agisce sulle vele e quindi si vede bene che per esempio a 15 nodi il momento sbandante è un tot il momento raddrizzante è un altro numero e si vede a che punto sta lo sbandamento della barca questa è un'operazione abbastanza lunga soprattutto perché bisogna sapere dove è il baricentro della barca il che significa attribuire un peso a tutti gli elementi e quindi è un'operazione non difficile ma lunga bisogna sapere dove è il baricentro bisogna calcolare le caratteristiche idrostatiche della barca questo l'abbiamo fatto l'altra volta quindi sapendo la stabilità di peso e la stabilità di forma si può fare la curva dei momenti raddrizzanti che si può confrontare con la curva dei momenti sbandanti e capire per ogni angolo quanto vento, diciamo così o per meglio dire per ogni angolo e per ogni entità di vento a quanto sbanda la barca mettiamola in questa maniera allora oltre a questo possiamo, diciamo così classificare gli alberi in due grossi settori due grosse famiglie gli alberi passanti che bucano la coperta e vanno a appoggiarsi sulle strutture oppure gli angoli gli alberi appoggiati in coperta allora per barche grandi non c'è non c'è scelta bisogna fare gli alberi passanti per barche piccoline come queste si possono fare anche angoli anche alberi solamente appoggiati con il vantaggio che non bucando la coperta sicuramente la coperta stagna però l'albero non è appoggiato semplicemente in coperta adesso la spegniamo la coperta e vediamo che sotto ho messo un pillar un profilo un puntone diciamo per cui l'albero appoggia su questo puntone come se fosse continuo però abbiamo il vantaggio che qui non devo bucare la coperta e quindi la barca è sicuramente stagna apriamo anche le strutture e vediamo che eccoci qua e vediamo che il pillar appoggia su questo quadrato che è circondato da strutture che si chiama must step il gradino dove appoggia l'albero sostanzialmente qui se voi vi ricordate ci sono delle paratie e questo fa sì che questa zona vediamo se riesco questa zona sia abbastanza strutturata sia con le strutture di chiglia sia con le paratie perché come abbiamo detto prima la barca tende a schiacciarsi in questa direzione secondo il baglio perché chiaramente le sartie tirano verso l'alto e quindi tendono a schiacciare se non c'è una struttura opportuna ed inoltre tendono ad alzare la coperta quindi è bene che appunto questa zona sia molto strutturata possibilmente con una paratia tutta attaccata sia alla coperta che allo scafo e che quindi impedisce non solo un distacco ma deformazioni importanti insomma allora richiudiamo questo qua e riapriamo la coperta eccoci qua quindi questo sostanzialmente è il risultato finale chiamiamolo finale ma insomma ci sarebbe da lavorarci ancora tantissimo sono tantissime le cose che non abbiamo preso in considerazione per diciamo così velocizzare il processo altrimenti non finivamo più pensate solamente l'ancora tutti gli impianti la laminazione e via dicendo però insomma questo qui è un buon assunto mi sono dimenticato di dirvi che io qui ho messo questo paranco in realtà questo pregiudica un pochettino la posizione di un tavolo esterno non tanto ma insomma la pregiudica si poteva fare si poteva usare un'altra soluzione e cioè fare una base rialzata con un winch e un paranco diverso in modo che il tavolo stesse a prua tranquillamente e fosse fisso invece qui magari quando ci si ferma bisogna allentare il paranco e mettere un tavolo diciamo così semovente in pozzetto è molto piacevole cenare o pranzare in pozzetto e quindi il tavolo di pozzetto è diciamo così più è grande e meglio è insomma anche se qui bastano quattro posti perché sostanzialmente in più di quattro è difficile è difficile navigare con una barca del genere va bene non mi dilungo oltre se avete delle domande fatemele attraverso l'email o attraverso i commenti sotto il video ricordatevi di iscrivervi al canale ve lo ricordo ancora e di mettere un like la prossima volta parleremo della presentazione quindi daremo attribuiremo del materiale a ogni superficie non sarà un'immagine fotorealistica nel senso che si scambia con una fotografia perché ci vuole tantissimo tempo e non è strettamente il mio settore quello più grafica diciamo però vedremo insomma come fare una presentazione veloce per un ipotetico cliente che volesse capire come come viene una barca come viene la sua barca insomma uno che non è avvezzo a leggere i disegni CAD un piccolo renderino gli fa capire insomma come come verrebbe la barca e poi questa serie è finita vi ricordo di darmi consigli sulla prossima serie che tipo di imbarcazione volete che esaminiamo un vela di grandi dimensioni oppure un motore motoscafo oppure un lobster un fisherman oppure un super yacht uno yacht innovativo o un giga yacht di quelli che si varano adesso oppure un catamarano ogni idea è ben è ben accetta saluti e alla prossima